buonasera a tutti eccoci qui con il nostro consueto videoserale allora questa sera parliamo dell'all boy è uscito ieri l'ho preso oggi sono riuscito già a leggerlo e anticipo che mi è molto secondo me quest'albo dovrebbe essere letto dai nuovi lettori da chi da chi non conosce quello che noi definiamo il dylan tradizionale più che altro lo spirito al dina tradizionale per capire un po meglio che cosa intendiamo con esso ma andiamo in ordine la copertina di questo albo che il numero 19 per chi non sapesse l'all boy è una pubblicazione bimestrale in cui si raccolgono una serie di storie chiaramente inedite ambientate nella nell'universo dilaniato tradizionale a tutti gli effetti ossia senza sconvolgimenti derivanti dagli ultimi anni o rimandi al passato quindi praticamente non esistono i cellulari è come se fosse cristallizzato nel suo tempo ma non è tanto questo il motivo per cui secondo me questo albo nello specifico va letto ma è per altri motivi contiene due storie come tutti gli all boy la prima si chiama tempesta a manmore house e il secondo il numero imperfetto la copertina è di paolo bacillieri che è un disegno con metà testa di dylan e nella parte in alto ossia dove ci sarebbe il cervello vi è un altro dylan però in questo caso credo che sia disegnato da da giuseppe montanari esattamente quindi la parte in alto da montanari un po come sta succedendo negli ultimi anni alle presse con con un televisore tipicamente degli anni 80 se non addirittura anche precedente con dei tentaconi che scuola esso le copertine dell'all boy sono sempre un po particolari nel senso che hanno poco a che fare secondo me con la narrazione all'interno sono abbastanza estemporanee e diciamo un po trovano il tempo che trovano definiamole più un esercizio di stile diciamo così la la parte bacillieri in particolare mi piace molto perché a me io ho un debole per bacillieri non ci posso far niente alcuni lo considerano brutto o semplicisti con i disegni per me non è così e montanari da solo ha uno stile diverso di quando lavoro collabora anche con grassani anche se in realtà lo scopriremo all'interno di queste due storie il loro stile è cambiato dunque busatta chiaramente il curatore l'all boy la supervisione in questo è sempre gli sclavi ma anche i barabaraldi che la nuova curatrice quindi si occupa comunque supervisione l'all boy le due storie sono tempesta mad morhouse su soggetto di cingiatura appunto di barabaraldi disegni montanari grassani e lettering valentina peirano numero imperfetto soggetto di cingiatura luigi mignacco e disegni di montanari grassani e lettere di riccardo riboldi e come detto la copertina di paolo bacillieri montana giuseppe montanari e la colorazione di vincenzo filosa allora come tutti gli all boy troviamo una pagina in cui vi è un dialogo tra gli autori delle storie in questione è il curatore in questo caso busatta baraldi in veste di sceneggiatrice giuseppe montanari annesso grassani che raccontano di questa storia che ha come tematica il dramma familiare ossia gli altarini o più che gli altarini gli orrori che si nascondono all'interno delle famiglie le famiglie che possono sembrare normali o come in questo caso disfunzionali perché lo si vede da subito però posso nascondere gli orrori ancora più ghiaccianti molto da tematica da cronaca nera ma del resto di van dog è molto anche questo i nostri due amici di ilan e grosso si recheranno in questa tenuta chiamata appunto madmore house che si trova nelle nelle campagne perché dovranno indagare su quello che pare essere un fantasma comunque un'apparizione all'interno di essa il connubio che si creerà sarà molto tradizionale molto familiare per chi è della mia generazione quindi quarantenni conosciuto dylan e quindi dylan che indaga che si invaghisce della della bella cameriera grosso che spara le sue freddure che comunque sono piacevoli nella perché sono proprio tradizionali anche esse e poi troviamo la bella padrona di casa con problemi di alcol che si invaghisce di dylan ma cui lui non ricambia perché si rende conto che è un personaggio ambiguo e comunque già la sua tresca con la cameriera perché come sappiamo dylan è un fedigrafo non è fedigrafo concettualmente non lo è lo diventa il momento in cui si disinnamora o viene abbandonato da un'altra da una donna quindi essendo lui invaghito di questa ragazza non potrebbe concedersi ad un'altra anche se poi qualcosa qualcosa del genere succederà nella storia successiva e quindi la tematica familiare quella della donna alcolista che ha questo figlio che se che sotto quella quella protettrice vive è un rapporto controverso col cognato che pare essere il cattivo della storia e questo misterioso marito di cui si parla che non appare mai e poi vi saranno chiaramente le apparizioni spettrali o quello che si crederà essere perché poi come sempre dylan ha queste queste visioni che non si capisce mai bene ma questo è tipico il personaggio se siano proiezioni delle sue paure o se esistono realmente queste entità sovrannaturali vi sarà anche un misterioso aereo da guerra nazista e quindi questa storia si dipanerà all'interno di questo di questa follia familiare che non mi svelo perché il racconto va a letto perché ho detto che questa storia è un prototipo del dylan dog che noi conosciamo questo non è il prototipo a tutti gli effetti del dylan dog e della primissima ora ma è sicuramente il prototipo del dylan dog che io conosco bene e che ho coniziato a leggere a me diciamo a metà degli anni 90 diciamo che nelle prime nei primi maxi dylan dog che poi era erano gli antenati di questo all boy la tipologia di storie era questa soprattutto con i disegni di montanare grassani e comunque lo spirito di dylan si ritrova e questo bisogna dire un grande grazie a barbara baraldi e anche sottolineare che che credo abbiano fatto centro perché in questi pochi mesi da cui lei è curatrice in generale comunque nelle storie che lei ha scritto in questi anni si nota questo spirito che è quello che poi noi io ma chi come me la pensa ricerchiamo in dylan non cerchiamo il capolavoro assoluto per inciso è una bella storia tra l'altro si legge piacevolmente ed è un'ottima lettura estiva perché appassione di dylan dog che mi ha proprio fatto ritornare a quando avevo 15 anni ma lo spirito di fondo di dylan si vede in questa storia non quello delle primi della primissima ora anche se alcuni alcuni ecchi ci sono perché vi sono i disegni montanare grassani le le freddure di groscio il rapporto controverso con le donne e anche la presenza di queste entità soprannaturali all'interno di questi manieri quindi vi sono anche dei riecheggi per esempio del castello della parola della dama in nero tanto per dirne una però sicuramente è figlia questa storia o fratello o sorella minore per questioni anagrafiche del dylan dog che io leggevo e che ho apprezzato tantissimo negli anni 90 quindi questa storia qua l'ho letta un grande piacere ti metti sotto un ombrellone se sei un amante di dylan te lo leggi e ti piace se sei uno che la vede come me chiaramente perché poi magari il mondo è bello perché vario qualcuno potrebbe sembrare la classica storia superata un appunto che devo fare invece che purtroppo non mi piace è l'evoluzione che hanno avuto i disegni di montanare grassani perché se complessivamente il disegno in sé mi piace le ambientazioni anche i corpi dei personaggi le donne sono molto belle non riesco a capire le facce è cambiato il modo di disegnare i volti soprattutto di dylan o delle donne mi sembrano un po troppo pieni sembra quasi che siano truccati che abbiano fatto un po di botox in qualche modo e questa è una cosa che mi dispiace perché è chiaro che si che è un'evoluzione del disegno non voglio dire che montanare grassani abbia dimenticato così come si disegna ci mancherebbe altro con una carriera così lunga e prestigiosa che hanno però a gusto personale non mi piace il l'evoluzione che hanno avuto in quest'ultimo periodo anche la copertina che solo di di montanari denota qualche caratteristica forse più grassani quello che evidenzia questi aspetti secondo me però a netto di questo è un'ottima storia che la consiglio assolutamente ripeto chi è giovane chi non conosce dylan o chi si avvicina la prima volta direi consigliere di leggere questa storia per capire un po l'essenza del dylan almeno degli anni 90 andando alla seconda storia sempre con disegni montanari grassani ma il soggetto di cerchiatura luigi mignacco anche qui troviamo la pagina in cui si discute cui discutono gli autori quindi busatta curatore lol boy mignacco e montanare grassani molto interessante viene citato la loro prima storia corale dei tre autori una voce dal nulla 1989 che vi recensirò prima o poi perché è una delle storie più belle in assoluto che siano mai apparse su dylan dog è una delle cinque o sei che mi sento di consigliare la recensirò il prima possibile la tematica di questa storia numero imperfetto è il triangolo amoroso poc'anzi vi dicevo che dylan pur essendo pieno di donne è innamorato dell'amore il concetto di amore stesso vive da eterno adolescente i suoi rapporti ma non riesce a tradire una donna salvo che non sia finito secondo il suo punto di vista l'amore per quella non proprio amore quella persona o sia stato a sua volta tradito o scaricato in questo caso invece dylan intesserà una relazione con due sorelle conoscerà durante una una fuga da questi balordi nella londra nebbiosa tipica anche queste montanele grassani questa ragazza comunque tesserà una storia una ragazza è molto sfuggente affascinante per questo che lo farà innamorare immediatamente ma dylan è così è veramente un adolescente quasi alle prime armi tutte le volte che si innamora della prima della prima con cui ha insomma che gli fa gli occhi dolci sostanzialmente noi da adolescenti ci ritroviamo molto in questo dylan salvo non avere la sua la sua la sua fortuna con le donne c'è di averne una al giorno praticamente e quindi viverà dei mesi alla ricerca di questa donna che non vedrà più fin quando al parco incontrerà un'altra ragazza che che farà perdere la testa perché suonerà il violino e suonerà proprio il trillo del diavolo che è il suo leitmotiv e quindi e quindi intesserà questa relazione con questa ragazza ma continuerà anche a pensare all'altra se non che poi si scoprirà e non vado più avanti perché non racconto nient'altro ma lo si scopre quasi subito quindi non è uno spoiler che è questa sua seconda ragazza ha una sorella che di cui dirà sempre che cui dirà sempre a dylan che dovrà presentargli e poi scoprirà essere proprio la prima ragazza quindi dylan per un caso più unico che raro ha in testa una relazione con due relazioni con due sorelle anche se diciamo non contemporaneamente almeno nella sua idea di fondo perché la prima ragazza lo aveva abbandonato non si era più vista salvo che poi riapparirà e quindi lì da quel punto di vista dylan diventerà diventerà freddy grafo tradirà la sua attuale fidanzata con la sorella cosa che non è mai successo in dylan e poi leggendo la storia si scoprirà tutto il resto e anche l'evento l'aspetto soprannaturale della vicenda diciamo così non dico altro per non spoilerare anche quei disegni sono di montanari grassani però posso dire che rispetto alla storia precedente li apprezzo di più sono i stessi disegnatori le ambientazioni sono piuttosto simili però dylan nel complesso almeno i personaggi nei volti nel complesso mi convincono più della storia precedente gli autori sono gli stessi quindi che cosa vi devo dire anche questa è un'ottima storia con la tematica gemellare mi viene da pensare in un certo qual modo ossessione in numero 32 di land dog tra l'altro anche quello disegnato da montanari grassani se non erro l'evento l'aspetto soprannaturale e anche questa è un'ottima storia che avrei tranquillamente trovato nei primi maxi degli anni di fine anni 90 ultima di copertina il prossimo all boy che uscirà il numero 20 uscirà il 12 di agosto con queste due storie occhi chiusi ragazzi selvagli la copertina non mi fa impazzire ma come detto l'all boy soprattutto ultimamente un ottimo prodotto ma le copertine un po non lo so mi lascio un po perplesso che dire ottimo numero probabilmente uno dei migliori che abbia letto al di là delle storie che sono di ottima fattura a mio parere almeno a livello di sceneggiatura qualche dubbio ce l'ho sui disegni come vi dicevo ma poi nel complesso mi piace mi piace lamentazione anche e la le vocazioni che montanari grassani riescono a dare queste storie mi ricordano il mio dylan direte buon per te che che te lo ricordano ma ripeto sono opinioni personali e quello che mi sento di ribadire per l'ennesima volta se volete approcciarvi a un dylan secondo come era ai tempi miei diciamo negli anni 90 leggete questo questo al boy capirete un po cosa mi riferisco un saluto e ci vediamo presto con la prossima recensione o col prossimo video in generale ciao ciao